Erano in Nicaragua fin dal 1986 quando Madre Teresa di Calcutta aveva visitato il paese. Ma ora, dopo decenni di apostolato al servizio dei più poveri, le suori missionari della carità saranno espulse per decisione del regime di Daniel Ortega, che continua ad attaccare la Chiesa Cattolica anche attraverso minacce a vescovi e a sacerdoti. A marzo era stato imposto di lasciare il paese anche all'unzio apostolico Monsignor Valdemar Somertag e lo scorso fine settimana il governo di Managua ha emesso un decreto che sopprime 101 associazioni senza scopo di lucro, tra cui le missionarie della carità. Secondo il Ministero dell'Interno, le religiose non hanno rispettato gli obblighi di legge contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e delle armi di distruzione di massa. A tale giustificazione, che appare pretestuosa, viene aggiunto che le suore non sono accreditate dal Ministero della Famiglia per gestire asilinido, case di cura, centri per lo sviluppo dell'infanzia e per minori abbandonati. Ma nella realtà dei fatti il provvedimento si rivela come un ulteriore atto persecutorio del regime di Ortega nei confronti della Chiesa Cattolica.